Pronto il disegno di legge proposto al Governo regionale per la semplificazione amministrativa. Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche. Domani ad Altavilla il convegno ad Facendum Massariam. Buonasera, prima edizione di Medianews, oggi è venerdì 11 ottobre. Pronto il disegno di legge proposto al Governo regionale per la semplificazione amministrativa. Si introduce il principio del silenzio assenso. Chi tacea consente, recita il vecchio adagio, ma per le pubbliche amministrazioni non è esattamente così. Spesso le lungaggini burocratiche nel rilascio di certificati, documenti o autorizzazioni derivano proprio dai ritardi con i quali vengono sbrigate le pratiche. Ma con il disegno di legge approvato dalla Giunta regionale guidata da Rosario Crocetta, su ogni pratica amministrativa in Sicilia verrà applicato il principio del silenzio assenso. Ciò vuol dire che qualunque atto l'amministrazione debba produrre autonomamente o su richiesta di parte dovrà essere rilasciato in 30 giorni. Passati i 30 giorni, senza che l'amministrazione si attivi o si faccia viva, il cittadino o l'impresa o l'ente in questione potrà comunicare all'amministrazione di volersi avvalere del silenzio assenso. Il provvedimento si riterrà quindi rilasciato. Casomai se l'iniziativa in questione confligge con qualche altra legge, l'amministrazione avrà 15 o 30 giorni per intervenire e bloccare tutto. Restano escluse dal silenzio assenso le valutazioni di impatto ambientale. L'assessore alla funzione pubblica Patrizia Valenti ha spiegato che la regione potrà rivalersi sul dirigente dell'ufficio che ritarda il provvedimento con indennizi per il cittadino che subisce il torto dal ritardo burocratico fino a 2.000 euro. E il dirigente potrà essere sanzionato non solo da un punto di vista amministrativo e contabile, ma anche sotto il profilo penale. Soldi ai pescatori che salvano migranti in mare lo ha deciso l'Aggiunta regionale. Per il presidente Rosario Crocetta questo è un cazzotto alla bossi fini. Il governatore ha spiegato che i soldi verranno erogati dall'assessorato alla pesca in quanto i pescatori. Che salvano migranti interrompono l'attività e subiscono un danno economico che va compensato dalla regione. Per Crocetta questi pescatori sono eroi e vanno tutelati. Il governatore ha anche lanciato un appello. Siciliani chiedete in affinamento i bambini sbarcati a Lampedusa. Mi rivolgo alle famiglie e single. È un atto di grande civiltà. È una politica comune in materia di migrazione legale. Solidarietà con gli stati membri più esposti ai flussi migratori. E più cooperazione con i paesi di origine dei migranti. I temi trattati nel dibattito. Il commento dell'europarlamentare Salvatore Iacolino sul dibattito appunto in plenaria a Strasburgo sulla tragedia di Lampedusa. Un sosseguirsi di eventi qua a Strasburgo, discussioni concrete, finalmente dopo tante parole è qualcosa di concreto. Anche se pur iniziare timido probabilmente l'approccio della Commissione europea, 30 milioni di euro servono a determinare quelle misure compensative che serviranno a Lampedusa ma anche agli altri comuni sottoposti ormai da tempo ad una pressione migratoria incontrollata. Un approccio europeo per una sfida europea. Bisogna però fare in modo che i singoli stati membri non volgano lo sguardo altrove ma guardino alla porta d'Europa che Lampedusa, Portopalo, Pachino, Avola, Scicli. Guardino a questi comuni come veramente la porta d'ingresso in Europa di tanti profughi e di tante persone in cerca di protezione perché disperati e per questa ragione scappano da territori in conflitto. Un diritto all'asilo, un diritto alla vita ma che deve essere conciliata con l'esigenza netta di distinguere da questa categoria di persone quella relativa ai migranti economici che invece debbano essere rimpatriati senza inducio nei propri territori. Abbiamo il dovere di accordi di cooperazione con i paesi terzi e di una riallocazione di queste persone, mi riferisco ancora ai profughi che una volta rifocillati, una volta definita la prima accoglienza debbano essere reinsediati in tutti gli stati membri. E' questa la condivisione degli oneri, è questo l'approccio concreto che vogliamo e nei prossimi giorni nella plenaria 2 di Strasburgo fra due settimane vi sarà una risoluzione concreta per stabilire cosa intende l'Europa a proposito di solidarietà e responsabilità di Europa e di stati membri su un approccio comune europeo alla sfida del tempo, quella sulla migrazione. Manifestazione di CGL, CISWIL oggi nelle principali città siciliane nella giornata nazionale di mobilitazione. Fermiamo le stragi nel Mediterraneo organizzata per chiedere una diversa politica in materia di immigrazione e di asilo. A Palermo il concentramento sarà alle 18 in Piazza Verdia dove partirà una fiaccolata che raggiungerà via Cavourse della prefettura. A Catania alle 17.30 ci sarà un presidio unitario sempre davanti alla prefettura. A Caltagirone sitino unitario, a Messina in programma un presidio e una fiaccolata sempre davanti alla prefettura, così come a Caltanissetta. A Ragusa alle 18.30, presso il lungomare di San Pieri, CGL e CISWIL organizzano una fiaccolata che seguirà la deposizione di una corona di fiori nelle acque antistante la città. A Siracusa fiaccolate corteo, comportenza al Tempio di Apolle e conclusione in Piazza Archimede. A Trapani sitino davanti alla prefettura, analogamente a Enna, dove sabato scorso si è tenuta una veglia di preghiera per i dispersi. Delegazioni sindacali chiederanno di essere ricevute dai prefetti. E adesso la pubblicità. La sai la novità? Arrediamo e vestiamo la tua casa a Scordia, a 20 chilometri da Catania. Vasto assortimento di tendaggi e mobili di vario genere, dai contemporanei ai classici e moderni. Scegli il tuo stile e acquisti con sicurezza nel primo negozio online di mobili, tende e tessuti. Vieni nei nostri showroom. A Scordia, in Piazza Piersanti Mattarella 20, in Via Cristoforo Colombo 5 e in Via Statuto 194. Oppure se sei abile con il web, basta un clic e hai il tuo preventivo. www.rosamobili.it e www.sltessuti.it E se hai moneta Sicanex, risparmi i tuoi euro. Regione, articolo 4, continua ad appoggiare il governo Crocette e gli chiede di andare avanti per affrontare i tanti problemi dell'isola. L'ascoltiamo il deputato regionale Totò Lentini. Noi fin dal primo momento, noi ad oggi abbiamo collaborato con questo governo perché il governo fino ad oggi ha presentato delle istanze che noi abbiamo condiviso. Sono istanze che portano a beneficio alla comunità siciliana, quindi abbiamo condiviso che noi non siamo organici al governo, ma lo possiamo essere se il governo fin da subito porti in aula quelle riforme che occorrono alla Sicilia per risollevare le sorti del popolo siciliano, che sono esempio il precariato che già a quanto pare il governo si è impegnato col governo nazionale affinché questo problema possa essere risolto. Abbiamo il problema della formazione professionale, ora già tutti coloro della formazione che lavorano negli sportelli già il problema è stato risolto, almeno per sei mesi, ma in questo frangente di tempo ci attiveremo affinché possiamo veramente portare avanti anche questo. E poi c'è il problema alla forestale, tutti i lavoratori precari alla forestale che non possono continuare così dopo tantissimi anni, dobbiamo trovare anche, dobbiamo fare una riforma che possa veramente mettere ordine in questo sistema siciliano che per tanti anni non ha funzionato. Lancia Sicilia e chiede al governo regionale di accelerare il previsto confronto sulla nuova programmazione dei fondi europei affinché si possa creare una costruttiva sinergia prima che entro questo mese lo Stato e la conferenza delle regioni raggiungano un accordo sulla proposta italiana e venga poi stipulato l'accordo di partenariato Europa-Italia. Lancia Sicilia è pronta ad offrire in tal senso collaborazione tecnica all'azione di definizione degli obiettivi, dei programmi, dei piani e dei progetti che l'isola deve proporre per ottenere e utilizzare il massimo delle risorse disponibili nella prossima programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020. Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche, 650 interventi per la cui realizzazione è previsto un costo di oltre 3 miliardi e 600 milioni di euro. Approvato in via definitiva il piano triennale delle opere pubbliche la cui proposta era stata approvata lo scorso 9 marzo dall'Aggiunta. Il piano comprende anche gli interventi della prima annualità che, specificato nella delibera, possono essere immediatamente cantierabili o che sono comunque già dotati di copertura finanziaria. Unica significativa modifica è l'inserimento nel piano annuale delle opere, recentemente approvato dall'Aggiunta al cosiddetto piano città per la costa sud e brancaccio tra cui la chiesa di Don Padre Puglisi. Il piano, la cui versione definitiva verrà pubblicata sul sito del Comune al termine del lavoro di revisione dei testi da parte degli uffici, era di fatto fermo a dieci anni fa. Ribadendo ciò che dissi lo scorso marzo, afferma il sindaco, Leo Luca Orlando, ricordo che persino dentro gli uffici comunali il piano era ormai definito come un libro dei sogni. Oggi invece sappiamo che può essere un piano di cose possibili per la cui realizzazione sarà certamente necessario lavorare e lavorare molto, ma sicuramente un piano di cose possibili a servizio dei cittadini e della vivibilità della città. Alcune voci che erano prima indicate in modo tanto generico da renderle inutili vengono sostituite da voci specifiche con elenchi puntuali di interventi con indicazioni di spese e fonti di finanziamento. Altri elenchi di opere vengono invece inseriti ma in un quadro di sviluppo urbano basato su una progettualità nuova condivisa con e partecipata dai cittadini e dalle circoscrizioni, come nel caso dei tanti progetti di intervento che erano prima, in modo del tutto disomogeneo e confuso, destinati alla costa sud della città. Si data nel complesso di oltre 650 differenti interventi per la cui realizzazione è previsto un costo di oltre 3,6 miliardi di euro divisi in 15 macro aree definite tema progetto e che sono espressione del programma politico che il sindaco ha sottoposto agli elettori al momento delle elezioni. E' opportuno incontrarsi e discutere di tutti i problemi delle società partecipate che non diminuiscono di intensità ma anzi aumentano. A dirlo è Maurizio Calà del CGL Palermo che sollecita il sindaco Orlando a fare partecipare anche le organizzazioni sindacali al prossimo tavolo tecnico. Il confronto con noi dice Calà non è più andato avanti da quando è partita la cabina di regia per la gestione complessiva di tutte le società. Il confronto è quanto mai urgente perché si tratta di riorganizzare i servizi, il personale e mettere in sicurezza i bilanci. Non vorremmo doverci rendere conto alla fine che non esiste più alcuna soluzione. Sappiamo che i problemi esistono in tutte a partire dall'AMAT. Non comprendiamo, conclude Calà, ancora perché non vengono affrontati con la serietà, il rigore e l'equilibrio che la gravità della situazione richiede. E adesso un'altra pausa pubblicitaria. La tua casa a Scordia, a 20 chilometri da Catania. Basta assortimento di tendaggi e mobili di vario genere, dai contemporanei ai classici e moderni. Scegli il tuo stile e acquisti con sicurezza nel primo negozio online di mobili, tende e tessuti. Vieni nei nostri showroom a Scordia, in piazza Piersanti-Mattarella 20, in via Cristoforo-Colombo 5 e in via Statuto 194. Oppure se sei abile con il web, basta un clic e hai il tuo preventivo. www.rosamobili.it e www.sltessuti.it E se hai moneta Sicanex, risparmi i tuoi euro. Si svolgerà domani nella sala convegni del Santuario della Madonna di Altavilla Milice, un convegno dal titolo Ad Facendum Massariam. Domani dalle 9.30 alle 18, nella sala convegni del Santuario della Madonna di Altavilla Milice, si svolgerà il convegno Ad Facendum Massariam, una iniziativa che si inquadra nel programma dell'amministrazione comunale, inteso alla riscoperta e valorizzazione delle radici storiche e antropologiche di Altavilla e si avvale dell'esperienza della rivista Nuova Busambra con la collaborazione delle associazioni Oltre il Mare e Mille Storie. Il tema portante è la Sicilia del grano, i luoghi e le strutture della produzione nel periodo tra il Medioevo e l'età moderna e le masserie che ancora oggi sopravvivono anche se travagliate dalla crisi del settore in alcune zone dell'isola come Monreale, Misilmeri, Marineo, Mezzoiuso, Cefaladiana, oltre che Altavilla Milice. I lavori verranno introdotti dalla professoressa Rosa Maria Buccellato Dentici, relatori tra gli altri i professori Henri Bresce dell'Università di Parigi, Antonio Morreale, Salvatore Brancato e Santo Lombino. È una delle tante iniziative culturali che l'amministrazione ha pensato di mettere in scena come in questo caso con personalità di conosciuta importanza e eccellenza anche a livello europeo. Abbiamo anche per fortuna tra queste anche qualche locale che riesce a dare prestigio anche di maggiore a questa amministrazione. L'assessore Lobosco è sempre puntuale in queste sue iniziative che non fanno altro che elevare il grado di cultura del nostro paese con il ritorno alle nostre radici, che poi, dico, un certo legame con quello che c'è di moderno lo abbiamo. Oggi parliamo di prodotti a chilometro zero. Dico, anche a questo servivano le masserie, anche se a quel tempo non c'erano le grosse distribuzioni, però era un punto importante dell'attività economica. Credo che oggi si stia ritornando a quelle realtà, quindi abbiamo questo viatico che ci consola per un'economia nuova, verde, ecologica e soprattutto del nostro paese stesso. L'interesse è sicuramente quello di portare alla luce una parte della storia della Sicilia molto significativa per lo sviluppo successivo economico e sociale dell'isola, ma forse non troppo attenzionata. E per l'occasione abbiamo la possibilità di avvalerci delle più importanti figure che si occupano di questa importante parte della nostra storia. Sarà presentato oggi a Palermo alle 18, alla bottega dei sapori e dei saperi della legalità in piazza Castelnuovo, le gabbie invisibili, il romanzo del palermitano Erino Colonna Romano. Ne parleranno con l'autore, il presidente di Lega Coop Sicilia, Elo San Filippo e Chetta Grazia, operatrice sociale esperta in cooperazione internazionale. Domani inaugurazione dell'antologica di Franco Locascio nella Sala delle Capriate di Palazzo Sant'Elia in via Macheda a Palermo. D'amore e d'incanto è promossa alla Fondazione Sant'Elia, esposte un centinaio di opere dipinti su tela di grandi dimensioni e fotografie inedite che sintetizzano il lungo percorso pittorico dell'artista, i suoi rapporti tra vita e arte, a testimonianza di 40 anni di attività svolta in Italia e all'estero. La mostra resterà aperta fino al 20 novembre. Ed in conti, dibatti e di presentazioni di libri, in tre giorni l'ex convento dei Teatini, sede della Facoltà di Giurisprudenza di Palermo, ospiterà una serie di eventi con la rassegna di libri e di tesori. L'iniziativa è organizzata da Navarra Editora nell'ambito del ciclo Le vie dei tesori, che per quattro weekend proporrà iniziative culturali su vari temi. Il primo è dedicato all'eresia, nella storia del pensiero e nella letteratura. La rassegna di libri alla quale prendono parte 24 case editrici si apre oggi alle 18. Interverranno il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, insieme al sindaco di Roma, Ignazio Marino, e a quello di Messina, Renato Accorinti, con un dibattito sul tema dell'eresia alle 21, l'uomo che diventò sua moglie, con Franco Lacecla. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. Arrivederci alla seconda edizione. Grazie a tutti.